Ho ascoltato tutti gli interventi, ho fatto una breve pausa con l'intervento di Giovanni Edrizzi perché ci conosciamo da tempo e stiamo lavorando insieme a una proposta di legge che sia degna di questo nome, probabilmente anche una legge quadro, sul settore del gioco d'azzardo e siamo già arrivati a oltre 25 articoli e quindi capite bene che la materia è estremamente complessa, rivede lo studio della filiera delle ragioni per cui si è arrivati a questo punto perché se non torni indietro nella filiera delle ragioni per cui si è arrivati a questo punto non hai il bandolo della matassa. Devo dire che invece ho trovato estremamente interessante questo libro perché trovi dati e riflessioni che non trovi su internet o nella rassegna stampa che puoi ricostruirti dal web. Quindi è assolutamente un libro da leggere e che permette di completare una visione che deve essere a 360 carri. Abbiamo parlato anche di ricostruire la filiera delle ragioni per cui siamo arrivati a questo punto. Qualcuno ha parlato di peccato e il peccato etimologicamente era ciò che ti manca. Qual era stato il peccato originale. Ho sentito parlare anche di Foucault. Il Movimento 5 Stelle entra in Parlamento e anche probabilmente con un non detto, un potentissimo non detto perché a Foucault si anteponeva in maniera perentoria sia come caratteristiche di personalità sia come filosofia derrida che padre del decostruzionismo. Quindi noi siamo venuti qui anche per scomporre e ricomporre. In questa opera di scomporre e ricomporre però deve essere estremamente preciso perché se no ti trovi a doverti giustificare per il fatto che fai delle accuse, fai delle accuse anche in aula e in Parlamento di questa zona grigia che a noi non è che interessano solo i cosiddetti collusi o venduti se vogliamo al settore del gioco d'azzardo. Ricordo che c'è un video su Youtube di un assistente parlamentare del Senato della scorsa legislatura che, vero o falso che sia, denuncia che in Senato passano ogni mese delle persone all'interno di alcune commissioni in settori particolarmente sensibili a dare la busta. Questa cosa non è mai stata, non è mai stata, se ne è parlato per quanto riguarda il gioco d'azzardo e anche per il settore farmaceutico. Questa cosa non è mai stata indagata con sufficienza. Mi trema la voce a parlare di questa cosa perché come ho sentito prima, come ho sentito prima, noi stiamo parlando della felicità del popolo italiano o della possibilità, visto che abbiamo parlato anche della giurisprudenza americana, del diritto di perseguire la felicità. In questo momento la felicità non è contemplata nella nostra società come un diritto, ma neanche il diritto della possibilità di perseguirla. gruppo interparlamentare contro il gioco d'azzardo. Perché per quanto mi riguarda la Camera non ha aderito nessuno al gruppo? Perché quando siamo entrati qua dentro abbiamo pensato in maniera molto semplice che se ci doveva essere qualcuno della cosiddetta zona grigia sicuramente si sarebbe iscritto a questo gruppo interparlamentare contro il gioco d'azzardo. Per cui abbiamo pensato di iniziare un percorso parallelo di approfondimento e poi di vedere quali sarebbero state le occasioni per confrontarci con i nostri dati e con i dati ufficiali di tipo istituzionale, governativo, parlamentare o di contenitori istituzionali come il gruppo interparlamentare. Mi risulta che anche nelle precedenti legislature siano stati iniziati percorsi come il gruppo interparlamentare contro il gioco d'azzardo. Magari qualcuno mi smentirà e non mi sembra che abbiano portato dei buoni risultati. Quindi non so nemmeno quando si sono riuniti o se si riuniscono con continuità, questo è un momento estremamente importante del confronto sui temi e sui contenuti. Abbiamo parlato delle frodi semantiche, in questo settore siamo pieni di frodi semantiche. Questo è un momento storico in cui le verità capovolte si vendono attraverso le frodi semantiche. E questo è un appello alle forze della maggioranza, insomma a chi a volte è costretto a non vedere o a rimandare un confronto anche aspro all'interno del proprio gruppo, a volte anche rimettendoci le penne. Cioè se su queste battaglie dobbiamo finire tutti al gruppo misto o addirittura di metterci da parlamentare, per quanto mi riguarda, ben venga. Tassa di scopo, ho avuto la possibilità, si raccusa la settimana scorsa, c'era anche Dotti in collegamento, di commentare una delle sparate di Matteo Renzi e questa sparata è stata relativamente al legame, io introduco subito il problema perverso, che si innesta nel senso di colpa e connaturato nell'essere umano nel momento in cui ti dice con il gioco d'azzardo noi ci paghiamo i servizi sociali. Quindi ha creato un doppio legame, chiunque vuole attaccare questo doppio legame evidentemente ha qualche problema suo. Il problema è che noi le cose migliori nel nostro paese le abbiamo fatte con la fiscalità generale, la sanità è finanziata attraverso la fiscalità generale. Il cosiddetto decreto abruzzo con cui si voleva non finanziare la ricostruzione per quanto ci riguarda, la storia lo dice, ci sono persone che sanno meglio di me, è stato un grosso fallimento e sono stati introdotti molti nuovi giochi. molti nuovi giochi. La legge con il decreto abruzzo, con il famoso decreto abruzzo. Parliamo dei monopoli di Stato, dell'AMS, noi abbiamo fatto durante la discussione, è venuto fuori che esisteva già un osservatorio nazionale per la prevenzione sul gioco d'azzardo. Nessuno lo sa, nessuno ne ha conoscenza, è stato introdotto col decreto Balduzzi, si è riunito mi pare due o tre volte, stiamo parlando dal 2012 e troviamo all'interno di questo osservatorio nazionale per la prevenzione sul gioco d'azzardo che sta sotto i monopoli dello Stato e quindi gestiscono la cassa, non sta sotto il Ministero della Salute che dovrebbe avere una marcia in più in termini di prevenzione. Chi troviamo? Troviamo Tagliaferri. Tagliaferri è stato uno dei due protagonisti che è stato condannato in prima battuta, in prima istanza a una maximulta di 4 milioni e mezzo di Euro perché è stato da parte della Corte dei Conti, mi pare della terza sezione della Corte dei Conti, è stato statuito che Tagliaferri era uno dei due responsabili, responsabili dei dirigenti dei monopoli dello Stato, all'epoca lui era proprio il dirigente massimo, uno dei massimi dirigenti, che praticamente nella famosa multa dei 98 miliardi c'erano come si diceva una volta dei basisti, cioè delle persone all'interno dello Stato che avevano avvallato già prioritariamente, sapevano che queste macchinette non erano collegate perché si stava aggredendo il mercato, perché i concessionari stavano aggredendo il mercato e quindi diventava problematico per ogni macchinetta che si installava riuscire subito a introdurla all'interno della rete Sogeri che garantisce il monitoraggio di queste macchinette. È stato visto che sia Tagliaferri sia Tino, sono stati soprattutto Tagliaferri che abbiamo ritrovato in questo osservatorio per la prevenzione sul gioco d'azzardo come membro supplente, incredibilmente, quasi come a monitorare degli interessi che non fossero proprio la prevenzione. Prevenzione significa evitare che le persone si ammalino, sono direttamente collegate con l'offerta e parliamo di offerta in un momento particolare del gioco d'azzardo, perché questo è il primo anno che il fatturato decresce, da 88 miliardi a 84 miliardi. Però cosa succede? Aumenta comunque l'offerta, per cui il livello di aggressione nei confronti delle cosiddette fragilità umane, cioè persone che altre persone che hanno studiato il fenomeno, anche a livello ufficiale, l'Istituto Y per esempio, ha decretato che la curva della fragilità è bimodale, cioè si impenna con i molto giovani e con i molto anziani, mentre i quarantenni che hanno magari un lavoro soprattutto, cioè i quarantenni che hanno un lavoro, sono meno soggetti ad avere problemi con il gioco d'azzardo, mentre sappiamo bene che con una disoccupazione al 47,5%, che è stata appena aggiornata, giovanile, quindi fino a 25 anni. E con problematiche relative a arrivare al fine mese di chi ha delle pensioni, anche qui le possiamo chiamare fragili, troviamo una problematica di dipendenza che è enorme. Quindi questo è un punto abbastanza importante. La legge Binetti, il cosiddetto test unificato della legge Binetti, io posso dire con orgoglio che è stato fatto un buon lavoro nella Commissione Affari Sociali, con altrettanto orgoglio posso dirvi che la Binetti mi ha levato al saluto per tre mesi, pur essendo probabilmente la persona verrà indicata come relatore di minoranza del test. Perché? Perché facevamo un tale lavoro di sollecitazione al test unificato che all'inizio prevedeva 12 articoli, lei ha creato 12 articoli, ne sono usciti fuori 19, che siccome la diplomazia non è proprio il massimo della mia caratteristica, la migliore delle mie caratteristiche, Paola Binetti preferiva parlare con il mio collega che era un pochino più tranquillo nell'esposizione. Abbiamo qui il mio collega del PD che sta ridendo. Perché sa bene quanto mi sono arrabbiato quando abbiamo scoperto che Tagliaferri è stato in avvissato, non è più perché l'ANSO e il Monopoli dello Stato non pubblica più il proprio organigramma sul sito internet. Quindi non si trova più Tagliaferri come dirigente dei Monopoli dello Stato, condannato dalla Corte dei Conti con dolo alla multa di 4 milioni e mezzo. Ho fatto vedere la mozione anche allo stesso Banduzzi per chiederle se provocatoriamente se la firmava, lui l'ha presa in maniera molto cortese e se l'è portata via, me l'ha distituita, ha detto guarda preferisco non firmarla perché so che arriverà la sentenza di secondo grado. Va bene, anche questa mozione è rimasta un po' lì, volevamo anche dare un esempio, far sentire qualcosa che l'ha cambiato per attribuire delle responsabilità, perché un modo per asciugare questo brodo di cultura, la zona grigia tra persone che magari stanno male per questa lotta da anni e persone che sono in maniera estremamente spregiudicata e colluse con l'offerta malata di gioco d'azzardo sul territorio italiano, c'è una zona grigia, c'è una zona grigia che non guarda, che rimanda il confronto. A volte la zona grigia è perché ovviamente siamo degli esseri umani, stiamo combattendo talmente tante battaglie che dobbiamo mettere in ordine le priorità. Io non so, ma io mi ricordo una battaglia estremamente importante sull'articolo 14 della delega fiscale, l'articolo 14 è ciò che regola il settore dei giochi d'azzardo in materia fiscale. Una delle visioni del Movimento 5 Stelle è che si può diminuire l'offerta di gioco d'azzardo utilizzando la leva della fiscalità, in buona sostanza aumentando le tasse. Allo stesso modo, il nostro qui presente, che è un regole basso, ha fatto due proposte di legge estremamente interessanti, perché noi per fare la nostra proposta di legge ci siamo dovuti scaricare a settembre 19 proposte di legge della 17esima e 16esima legislatura e farne uno studio comparato. Sette non erano scaricabili perché non hanno avuto avviso si stampa, ne rimanevano 12. Di queste 12 molte sono copie e incolla l'uno dell'altro, per cui non c'è un vero lavoro all'interno di questa proposta di legge. Alcune proposte di legge degne di nota del PD sono state quelle dell'onorevole Carabini, sia della 16esima legislatura sia della 17esima legislatura e per creare la nostra proposta di legge, per cui non prendiamoci in giro, il copie e incolla va bene se si fa all'interno di uno studio comparato, se si fa all'interno di un contesto di approfondimento, per cui noi, le parti migliori, gli articolati migliori, li abbiamo sempre votati in sede di Commissione Affari Sociali e proposti, anche prendendole dagli altri, anche dichiarandole perché le consideravano delle proposte migliori, ovviamente con una visione, per far diminuire un'offerta estremamente aggressiva sul mercato, perché le 13 concessionalie, alcune stanno abbandonando alcuni mercati, altri stanno aggredendo altri mercati, perché il mercato si sposta. Il mercato del gioco d'azzardo, così come nel 92-93, vi ricordate che era Totip, Totocalcio, Lotto e Superenarotto, così come le slot che noi consideriamo il male assoluto anche oggi, sono in decrescita come raccolto, è un settore che è già stato abbandonato, perché puoi giocare solo un euro alla volta, a fronte delle VLT che raccolgono sempre di più rispetto al settore delle slot, le VLT sono delle slot 2.0, metti la banconota dentro, puoi giocare di più rispetto alla slot che devi mettere la moneta dentro e perdi, con un monte orario, cioè in un'ora perdi tre volte tanto le VLT rispetto alle slot. Queste cose sono da dire perché per tornare al discorso della delega fiscale, l'On. Basso ha fatto una proposta di vieto assoluto, diretto e diretto di pubblicità. Perfetta, tre articoli, inequivocabile, non puoi sbagliare. Poi arriviamo all'articolo 14, alla lettera AA, in cui c'è la ripetizione del divieto di pubblicità nel decreto Balduzzi che ha dichiarato di essersi scontrato con le lobby del gioco d'azzardo per cui prevede un divieto di pubblicità in orari in cui è possibile che i minorenni abbiano in via maggioritaria, adesso non mi ricordo, nel momento in cui il cosiddetto bollino verde, bollino giallo e bollino rosso sulla televisione, per farci capire, nel momento in cui c'è il bollino verde e il bollino giallo, in teoria dovremmo avere il divieto del gioco d'azzardo. Poi c'è un'ulteriore parte in fondo che dice, non si capisce bene se questo è il motivo di di mente per considerarlo vietato, che se non ci sono le cosiddette dichiarazioni, questo gioco crea dipendenza, effetti collaterali eccetera eccetera, come nel caso della farmacia, allora sei passibile di sanzione perché non hai informato. Questa è una prima, scusate il termine, noi ci caratterizziamo anche per essere a volte ostili e sicuramente non particolarmente diplomatici, questa è una prima supercazzola che troviamo nel decreto Balduzzi, perché non è possibile che noi mondiali di calcio troviamo il 700% di scommesse e scommesse convincite in denaro, questo è gioco d'azzardo, che è aumentato durante i mondiali. Quindi adesso vedremo cosa fare anche in sede di vigilanza RAI, però anche noi oltre a farci il sangue marcio rimaniamo basiti da questa situazione perché i cittadini ci segnalano a balanghe queste situazioni, cosa possiamo fare? Possiamo prendere i nostri colleghi e segnalarlo oppure piantare una tenda davanti a Montecitorio, non lo so, però sulla delega fiscale c'era l'introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche televisive, sempre per giochi convinciti in denaro che inducono comportamenti compulsivi. Fermo restando che la delega fiscale non è legge, ma una dichiarazione di intenti che ha bisogno di un decreto attuativo per essere assolutamente inequivocabile. Al Senato, con i voti del PD, è stata allargata questa maglia, che comunque è una maglia in cui un po' di pubblicità può passare, perché il PSI ha proposto che doverà essere inserito nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativa alla tutela dei minori. Noi siamo andati a cercare anche questo, i principi in sede europea relativa alla tutela dei minori. A parte il fatto che non c'è nessun riferimento di legge, quindi deve andare per parole chiave su Google, proprio con Ford Amnes, no? Abbiamo cercato il lungo e il largo e non c'è nulla, non c'è nulla, se non delle dichiarazioni di intenti estremamente vaga e l'intenzione che c'è un indicatore, noi regolaremo questo settore in armonia con il trend europeo, cioè se la pubblicità la facciamo o non la facciamo, lo deciderà l'Europa. Questo dice, cioè stiamo derogando alla possibilità di legiferare, perché stiamo dicendo nei principi sanciti in sede europea relativa alla tutela dei minori. Cioè stiamo parlando di linee guida, che sono estremamente liquide, vacue, che non possono essere utilizzate per creare una legge. E l'onorevole Basso sta bene, perché io già conoscevo la sua legge, così come l'onorevole Garabini li ho chiamati in causa in aula, abbiamo fatto un emendamento per ripristinare, almeno come era fatta prima, o per restringere e ripristinare il divieto di pubblicità in forma diretta e indiretta, per farci capire le merit, fumare è divieto diretto e indiretta. Questo tipo di razio volevamo noi. E noi ci troviamo l'800% di scommesse mondiali con i ragazzini che ovviamente non vedono l'ora, si ricorderanno i mondiali per tutta la vita. E quindi questo è un primo pizzico che noi diamo al BD per vedere se riusciamo ad asciugare questa zona grigia, chiamare le cose per con nomi e cognomi, perché noi quando abbiamo proposto il divieto di pubblicità in maniera diretta e indiretta ci siamo ispirati alla proposta di legge Garabini, alla proposta di legge Basso che sono venuti prima di noi, voi tendenzialmente proponete all'inizio della legislatura tutta una serie di legge bandiera, però si annaquano. Questa è una proposta di legge di tre articoli, sono legge bandiera, cioè significa io ho la protezione perché ho fatto questa proposta di legge, ma ti devi giocare il posto quando sei in aula a difenderla, perché tu sei caratterizzato da questa battaglia. I cittadini hanno fiducia in te e quando il mio collega Cecconi si è alzato in aula a dire per favore non prendiamoci in giro, perché è tutta una sinuosità questo divieto di pubblicità, che non è vera, non è vera che c'è il divieto di pubblicità, ora l'abbiamo visto che non c'è, l'abbiamo ripristinato in Commissione Affari Sociali nel testo unificato per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Però vediamo perché quando arriverà in aula si arriverà, perché anche lì la politica rimanda perché è un tema scomodo, abbiamo questo tema estremamente scomodo, che probabilmente porterà consenso a chi è stato più coerente, non a chi non ha le idee chiare. Quindi quando arriverà in aula la proposta di legge sul gioco d'azzardo patologico, per quanto mi riguarda, siccome la legge si apre a ventario, può essere inventata con articoli di finanza, può essere inventata con articoli di giustizia, può essere cambiato il titolo, in questo momento non poteva essere perché doveva essere specifica sul gioco d'azzardo patologico. Io qui mi fermo perché giustamente avremmo moltissime cose da dire e ho lanciato un sasso che richiede coerenza, richiede il fatto che le persone qui presenti si devono esporre giustamente per quello che è il loro mandato, il mandato sociale che hanno ricevuto e che anche i pubblici funzionari dell'esercizio delle loro funzioni hanno. E quindi io mi fermo qui, sappiamo un'ultima cosa, sappiamo che questo settore è molto protetto, è molto difeso da quelle scatole cinese che diceva il mio collega prima, che sono vietate per legge non solo dalla delega fiscale ma anche prima, la trasparenza delle società che hanno la concessione di gioco d'azzardo è già prevista, l'inconferibilità, l'incompatibilità di cariche è già prevista, però nessuno chiede a gran voce il rispetto della legge, per cui questo potrebbe essere un primo modo per asciugare questo brodo di cultura. Io vi ringrazio.